No, vamos accomodando già para che al parco di Giovan che non si tratta di una memoria dei fiesti di Giovan e di Giovan il 26, con Giulio Berthold e di 14, con il 27 e dopo il 14, con il 27 e dopo il 13, con il 14 e dopo il 14 e dopo il 14 e dopo il 14, con il 13 e dopo il 14, con la 7, James Mellan Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Sarà Sala E' lì si viene e lo va a prender E' lì si capta il gioco Il tecnico che muestra su esperienza busca con pierna fresca tratar de mantenere la dinamica del equip ha fatto dopo del enorme fase che ha metto il tempo e' l'occhio che lo può empattare GOOOOOO Nadia sta l'esperanza e' l'Ivo Laro non stava jugando bene cae il gol, empattaron il partito e' l'averemo cosa passa E' un partito per guardare e' un gol majestuoso E' un gol di traccia se vola per un gol per un gol per il libertà di voto Insigne L'ABC Lorenzo Insigne e ora il corner corto che busca il compagno recupera molto bene in sua propria area o che si può abrire la contra le si ha mantenuto molto bene questa transizione che barriera di lasciare il peligro il fourth official has indicato there will be a minimum of two minutes si può abrire il giro il giro del giro il giro di Dario ha rechazato il giro si ha terminato il giro di Dario il giro giro del giro di Dario il giro giro di Dario un giro che ha tenuto la attuazione correcta nel partito di oggi non se si se le può calificare come excepcional, però buon partito si ha giugato bueno, per lo meno ha conseguito il gol del empate tiene que estar contento